Bella ragazzi, qui Tom Omer e niente, volevo fare questo video log perché ci sono Natale a vicino, dopo domani e vi volevo ringraziare a tutti per le 850 passi di iscrizione, sono veramente contento non vi ringrazio mai abbastanza e vi volevo fare gli auguri di persona quindi auguri a voi, auguri a tutte le vostre famiglie fate un buon Natale, fate un buon Capedanno fate feste insomma, divertitevi ma questo è stato l'anno dove ho iniziato a fare questi video, a giugno e devo dire che non mi aspettavo di avere questo successo e ne sono molto felice sono qui per annunciarvi che questa sera uscirà il mio montaggio Integrity che allora ho avuto qualche problema poiché io devo registrare con il Dazzle dato che l'HDP l'ho ordinato a lei arriverà l'anno prossimo quindi ho aspettato il 2011 video in HD e... si il microfono va e vai, quindi uscirà stanotte o stasera, ora vediamo come va il rendering e l'ho editato io che non ho mai usato Sony Vegas ho provato l'altro giorno a scaricarlo e insomma ho messo qualche effetto ma niente di che quindi non giudicate troppo l'editing le clip sono abbastanza belle però non ci ho speso tanto tempo comunque ci ho messo impegno a farlo alla fine quindi spero che vi piaccia e poi ci sarà forse un ultimo commento prima di Natale perché dopo a Natale io parto e vado in America e quindi ci vedremo solo farò, metterò altri video solo dopo il... tipo il 4, il 3 quando torno... quando torno qua in Italia quindi... ci vediamo belli, fatemi... fate delle buone vacanze auguri a voi, auguri alle vostre famiglie festeggiate mi raccomando godetevi questi ultimi giorni del 2010 e noi ci vediamo l'anno prossimo quindi vedete il Montage stasera vi faccio i miei più cari auguri e ci vediamo bella ragazzi